Ciao a tutti, come va? Oggi insieme andremo ad aprire il set allenatore fuori classe di colpo fusione quindi questa è la nuova espansione di spada e scudo, ci sono un sacco di belle carte c'è l'espion v max alternative, ci sono un sacco di carte di gengar molto carine e c'è miu quindi come al solito il set allenatore fuori classe contiene 8 bustine dell'espansione delle carte energia, dei separatori, delle sleeves e dei dati e niente, speriamo di essere fortunati e vediamo cosa troveremo leggiamo un attimo la descrizione gli stili si fondono in una nuova strategia un potenziale eliminato di attendere all'orizzonte con un nuovo stile colpo fusione che scatenerà l'istinto incontenibile dei pokemon e dei loro allenatori nuovi pokemon v più versatili che mai come genesect v, opa v e miu v max aspettano solo di scendere in campo mentre i pokemon colpo singolo e i pokemon colpo rapido si rivelano in tutta la loro stazza con le forme gigamax di rillaboom v max cinderace v max e intileon v max lascia di conquistare dalle nuove strategie e scopri la potenza dell'espansione spada e scudo colpo fusione ecco, là qui l'artwork è molto bello i colori sono sul viola e rosa e niente, iniziamo a sbustare voi siete stati fortunati con questo set? avete trovato qualcosa di interessante? fatemi sapere nei commenti cosa vi è uscito e cosa vorreste trovare allora questa confezione l'ho comprata al toys eccola qui allora, dovrebbe uscire anche il libretto eccolo ok, andiamo a vedere quali sono le carte l'hanno fatto un brilum v poi ok, un hopelton rillaboom cinderace ah bello, cinderace v max intileon greninja pikachu bolton eccolo qui miu v e miu v max un lucario un tarani taril gengar e un set bello lungo oddio, hanno fatto anche un dodrio v penso che non facevano un artwork particolare di dodrio da davvero tantissime espansioni e arriviamo alle carte più succulente eccole queste sono le le v c'è questo celebi v alternative davvero bella che in giappone era una carta promozionale poi abbiamo il bolton il miu il miu v alternative che è bellissimo il sandaconda anche questa era una carta promo in giapp e poi dovrebbero esserci le v max e le hyper eccole qui vedete c'è miu v max bellissima ecco queste tre mi piacciono tantissimo spero tanto di trovare una di queste quindi il miu v max alternative o l'espion v max alternative o vel gengar v max alternative e poi la gold e il fluffy che mi piacerebbe anche trovare e niente andiamo a sbustarle insieme allora abbiamo come al solito il libro delle istruzioni i dati che sono sul rosa e viola i colori di miu i segnalini danno e poi abbiamo i divisori le energie le sleeves eccole e dovremmo avere otto pacchetti dell'espansione allora abbiamo un boltand un genesect un miu un gengar un boltand un genesect un miu e un gengar quindi due di ognuno inizierei da il boltand che come artwork è quello che mi piace meno insieme a genesect e iniziamo da questo allora cercando di non distruggerli abbiamo codice per voi ed abbiamo trick da 4 acqua no energia lotta allora energia lotta un garbodor picumuku con questo artwork strano un eldegoss un gossifler un mudkip un sandriu un qfant colpo singolo un impidimp la reverse è un dub e infine abbiamo un latios colpo fusione questa è la prima rara che abbiamo trovato ora andiamo di genesect ok ho salvato anche questo pack ed abbiamo il codice trick energia psico no elettro energia elettro un martomp un ricevitore incrociato simisage un quillfish un vulpix cenzi zigzagoon di galar monkey la reverse è una compressa energetica e infine un allenatore ballerina abbiamo trovato un allenatore carino andiamo a slivarlo nelle sleeves di colpo fusione vediamo l'artwork molto bello anche in questo caso le sleeves sono opache riandiamo di bolt hand ce la posso fare tra l'altro a breve dovrebbero uscire anche i set di flareon zolteon e vaporion v max che non hanno inserito in evoluzione eteree e che usciranno a breve e vi porterò spero anche quegli spacchettamenti abbiamo energia fuoco no energia acqua e abbiamo energia acqua nine tells un sonaglio di addio lo panni un clamperl morpico uno scarmory uno shelmet plulse l'are verse un basculin e infine abbiamo un azumetril terzo pack andato andiamo col quarto di genesect ok l'ho salvato codice 1 2 3 4 e diciamo energia erba acciaio e abbiamo energia acciaio un dark rai croconov leggiadria di camelia colpo fusione un qfant un impidimp snom con quest'artwork molto particolare sembra ghiaccio mi piace un onyx un jiggle puff la reverse e un phalanx e infine abbiamo un maractus andiamo di mu ecco l'artwork con mu davvero bello codice codice 1 2 3 4 diciamo energia psico sperando che ci porti fortuna no foglia abbiamo una compressa energetica un beware un draclock colpo fusione un snom onyx un altro jigglypuff un durant pansear la reverse e un absole raro bella davvero bella come carta e infine abbiamo un meloetta colpo fusione niente diciamo che sta andando malino e vabbè speriamo nella confezione di gengar momento smr codice 1 2 3 4 diciamo acqua buio e abbiamo energia buio un fosco super pass viplotta un graveller un cloucher grow light stafol un siglif toxel colpo fusione la reverse è un meo e infine niente ragazzi un cloister male ultimi due pack andiamo di mu dai un espion non chiedo tanto l'espion di max e mi fai felice ed abbiamo codice 1 2 3 4 psico energia psico ooo energia psico un ariama un brilum scambiatore incrociato un manna un meo un merrill helioptile un volu la reverse è un arcane raro e infine non c'è niente ragazzi un landorus holo gran set allenatore fuori classe devo dire sempre molto fortunato nell'ultima troveremo qualcosa almeno una v chi lo sa allora energia energia 2 3 4 ed abbiamo energia fuoco un beware skatepark un lopanni un durant panzer un minum un baltoi corsola di galar la reversion grolit e infine un pikachu v meglio di niente ma insomma e niente queste erano le carte di oggi spero che il video vi sia piaciuto e mettete un like per supportare il canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto grazie mille al prossimo video ciao